E' la Railgun anziché essere a set Perché ID? Perché? Che è successo? Ok, penso che si è crashato il server E' crashato il server LOL Non penso che mi dia neanche i punti di esperienza così Ok Crash Dump Sending Utility E' crashato proprio il gioco Questo dovete vederlo Ok, l'altro monitor Report Send E' crashato proprio il gioco Assurdo E non solo a me comunque Perché nella chat uno ha scritto WTF Quindi penso che Si è crashato proprio a tutti Il server Non so se è crashato anche il gioco Ma il server è crashato sicuramente Ok, adesso Nessun problema Lo riavviamo E' E' andrà tutto bene Spero E' andrà tutto bene Grazie a tutti.